Ancora un 6 gennaio, per fare memoria del 6 gennaio 1980, quando Pier Santi Mattarella, presidente della regione, veniva ucciso da un sistema di potere criminale politico, che considerava un ostacolo ai propri sporchi affari la presenza di un presidente che aveva una visione e che stava avviando la nostra regione a un cambiamento profondo, partendo dalle carte in regola dell'amministrazione regionale, che era azione di contrasto concreto al sistema di potere mafioso. Siamo qui per fare memoria e anche per tenere alta la guardia, per dire che in questi anni certamente la Sicilia e il Palermo sono cambiate, ma che non possiamo abbassare la guardia, perché abbassare la guardia significa non apprezzare, non esprimere gratitudine, se non apprezzamento vuoto, gratitudine vuota al sacrificio di Pier Santi Mattarella. L'augurio è che tutti possiamo trarre in questo nuovo anno 2021 un insegnamento per rendere adeguato omaggio a un grande siciliano, a un grande italiano, a un grande politico, a un grande cattolico democratico che ha fatto per la sua visione della vita azione quotidiana, concreta e ha cercato di trasformarla in atti legislativi e amministrativi.